Signori e signori buonasera, rimaniamo nella chiave di suspense, cosa c'è dietro allo scandalo di proporzioni bibliche, che ha colpito questa parte di YouTube? I protagonisti coinvolti in questo scandalo sono, il trio monnezza, fame, sonno e debolezza, tranquilli non ci siamo dimenticati del tontolo, il cornuto e contento della situazione. Ma vediamo in questa nuova puntata della telenovela, una tragedia annunciata, cosa succederà? Buona visione! In questa puntata, della tragedia annunciata, vedremo lo scontro tra la trince e la cerchiettata, senza esclusioni di colpi. Io sono schifata molto schifata, ma delle cose che io sto dicendo, che siano cose vere lo sto dicendo perché oh tante mi sono state provate, io mi sono tutelata. Registrando tutto, perché oh come ci si può offidare di una persona come Dennis, cioè lui stavo con me, ok, e poi va dalla fetida, perché, io l'ho mandato a quel paese, e allora è accorso dalla fetida e ha fatto lo schifo, e siccome Francesca è, una bugiarda patologica, ha voluto correggere il tiro, dicendo, sì, sì e ho messo nel letto, ma io non ho gridato alla molestia. No cara io non ho gridato alla molestia, io sono stata molestata, e sono stata costretta a dire le cose, per colpa tua e di quell'altro ossessionato di Dennis. Per colpa vostra, perché oh se no oh da me non usciva sta cosa, e oh uno schifo quello che voi avete fatto per due anni, che schifo. A che puzzo pure. Tu hai detto che Dennis ti ha detto che io puzzo. Fammi sentire dove avrebbe detto che io puzzo. Perché, tu no dici tanto che Dennis è un bugiardo, perciò, perché oh noi dobbiamo credere a tutto quello che dici te. Tu che dici a me una cosa del genere, io guarderei casa tua, ok, come ho detto prima, sembra una discarica a cielo aperto. Hai un'entrata quando hai fatto un video, ancora la canna da pesca di tuo marito, usata un mese fa, pensate che casino c'è, in quella casa. Che non sai più o neanche dove mettere la roba, la tua casa puzza come una discarica. Ci manca solo che durante una live, si apre la porta e entrano i gabbiani in quella casa. Bene dopo questi scambi di gentilezze, tra le due protagoniste, coinvolte loro malgrado in uno scandalo di proporzioni bibliche, gli viene concesso un confronto pacifico, si fa per dire, per dar loro modo di chiarirsi, ben ma vediamo come andrà a finire. A bella cuccia, se io volessi basta schioccare le dita e la Dennis Card, ritornerebbe da me in un nanosecondo, e poi io ora sono ancora più bella di prima. Acchiattona, Dennis mi adora e tu gli puzzi. Ecco. A bella lo dici a tu madre, a Dennis piacciono quelle in carne come me, lo ha detto anche lui, e le donne in difficoltà, perché lui ha la sindrome del crocerossino, e tu non sei una donna in difficoltà economica come me, ma sei una malata mentale, bugiarda patologica, soffri di shopping compulsivo, te hai bisogno de no psichiatra. E a cuccia ci vai tu. Amore, amore, la cerchiettata mi ha chiamato zerbino, tontolo e ritardato mentale, e poi dice pure che io non ho un lavoro, ma io faccio lo youtuber, vero amore. Amore, diglielo che io sono il tuo uomo alfa, mi sento come la sora cammilla, tutti la vanno ma nessuno la piglia, ecco. Ma brutta invidiosa e rosicona, come ti permetti, solo io sono autorizzata a picchiarlo e a chiamarlo zerbino. Io sono sua moglie e quindi posso fare quelle che voglio, chiaro? A cuccia cagna. Salve, so la sora cammilla, ops, ma che sbadata, so la mona lisa, meglio conosciuta come la gioconda, scusate se me intrometto, ma io non ce sto a capi più una mazza. Ah mi dicono dalla regia, che ora daremo la parola alla trincia per far sì che dica la sua opinione su tutta questa faccenda, au, piateve popocorni patatine, perché mo succede un casino. Me lo sento. Annamo bene sì. E chi l'ha causata deve pagare, sì è quella schifosa difetida, donna che protegge un molestatore, sì un molestatore, schifosa. E tutto il male che ho accumulato in tutti questi mesi, questa cattiveria, questo scavare e fare psicologicamente tortura, io sono stata molestata torturata psicologicamente, istigata all'odio, al suicidio è una vergogna, e voi siete tutti testimoni, questa è stata una porcheria e chi l'ha causata la deve pagare. Amore non ti preoccupare, ti difendo io da quella schifosa, scusa amore come l'hai chiamata. Assi ora ricordo, schifosa pantegana. Azzo vai a lavorare barbona, e fai la madre, ora qua devo dire una parola brutta, amore come faccio, mi aiuti tu, a grazie amore, prostituta, a me del pedone non si dà, ci metto due secondi a venire a Londra, poi con il treno si fa anche prima. Smetti la fetida di cacca, e sei pure una figlia di puntagnuna, prostignuna, ecco amore, visto ti ho difeso da bravo uomo alfa, ora me le compri le scarpe armani tac, come promesso. Vero, vero, che me le compri. Io ho fatto come mi hai detto tu, e poi, e poi dicono che sono il tuo zerbino, sono dei malati mentali, fatevi curare, cattivi, ecco. Basta, basta, amore dai ora smettila, si esatto vogliono far sbottare il mio uomo alfa, alias zerbino, per poi accusarlo, esattamente. Però non è bello che quella stronza racconta che quel coglione di mio marito mi ha picchiato, sì lo chiamo coglione, e allora? Io sono la moglie e posso chiamarlo coglione quante volte voglio e dove voglio, e voi a cuccia dovete stare. Buonasera, au, hanno detto che qua c'è sta uno che mi somiglia, e lo so venuto a veder. Ando sta, am vedi, semo uguali. Ma che ci hanno separato alla nascita? Ammazza, quanto a gusti non semo uguali, ma chi te sei sposato? Ammazza quant'è brutta. Comunque vedevo di che purtroppo, visto come se so messi li toni, la terza puntata finisce qua. Se vedemo alla prossima puntata. Mi raccomando fateli bravi. E non c'è bisogno che vi ricordo che ve dovete da iscrive. Bene, Stella abbiamo assistito a una puntata scoppiettante e con toni molti al di fuori dalla norma. È già Max, comunque dobbiamo salutare i nostri telespettatori dando loro appuntamento. Alla prossima puntata. Sistella, per oggi è tutto, ma vi ricordiamo anche, che per chi non fosse ancora iscritto al canale, può farlo ora, attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornato, sull'uscita dei video. Vi ringraziamo, per la visione. Amicicci, amicicci, sono al top e allo ie. Oggi ho fatto tutto quello che mia moglie mi ha ordinato, e così ha detto che mi porta a comprare le scarpe Nike-Tac, ma voi lo sapevate che Pierpaolo Pasolini è un cantante neomelodico, e che a Terni c'è il mare. È sì oggi ho studiato e ho imparato tante cose, che poi mi servono per fare lo youtuber. Come per esempio il fiume Gange si trova a Milano, il couscous non è africano ma è marocchino, a Roma si può navigare a Trastevere, infatti faremo presto un giro in barca io e mia moglie. In Sicilia c'è una strada alternativa, il canale di Suez è un canale di YouTube. È scaduto il tempo vi saluto ciao amicicci.